E volete sapere una cosa? Sono in ritardo Sto facendo il blocco? No, sta facendo la sicurezza Lei dove stai? Lavori? Security Quindi se io ti spingo Tu mi arresti Non so se posso mandare la gente così Ah ok Si comincia La tua giornata è la prima giornata Questa parte verrà caricata su un altro centro Ma lui è che fa l'intervista Sono io che faccio l'intervista a loro A chi? Oh vogliono buttare a spartola Lui è qua da spartola Vabbè dai andiamo andiamo Vabbè tra poco entriamo Vero? 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 10k 10k Tutti vengono tutti a vedere te Per vedere me Solo per te Solo per la scena di te che dormi e sbocchi Dove entriamo? Dove entriamo? Dove estriamo? Dall'altro lato? Ma tu sei con loro? Ma tu sei con loro? Non con me Delirio C'è un po' C'è un po' C'è un po' Sembra una palla Mostraci l'outfitlim Allora abbiamo una camicia Con un corbietto Due gonne Di cui una mi ci è strappata tutto prima Facciamo vedere sotto? Carpettine E poi questo chalet che completa il look Capello con perrucca Ah è parrucca? Sì c'è Adesso riprenderò l'esatto istante in quale Dentro davanti a me Ma per non vedere mio papà si metterà a piangere Vediamo se riescono a farmi schiamare Noi dobbiamo alzare questo Noi dobbiamo alzare questo Da, lo saprei che è culla Noi dobbiamo alzare questo Noi dobbiamo alzare questo Danza per culla Ma vuoi dirmi che c'è un barco dentro? In mezzo agli arcovoli? What? No way Lui è il registro Poi è un barco in mezzo E io girò nel video Sto col lupo Noi signore Sai proprio? Ah adesso stanno arrivando Li fattro cattivissimi Pronti? Vai 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 Vieni qua che ti voglio salutarti Auguri amo Ehi grazie Vai 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 Che succede quando quegli anni Mi hanno fatto leggermente Mi attacchi l'altra Mi attacchi l'altra Mi attacchi l'altra E' tra poco piazzato di scena Piazzatissimo l'escena Lei è ripresa Mi sa che si è sentito Scusa Stanno cambiando la scenografia Nel frattempo Il gruppo spagnolo fa intrattenimento Diciamo un serata abbastanza leggera contro le aspettative Diciamo che si, la dolce si fa e con acqua diciamo ghiacciata abbastanza fredda perché è necessario Troppo liquido sudorito è stato espulso stasera da sottoscritto Fammi una foto per me E ora pronti per il ringraziamento Grazie 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 C'è stato uno sbalzo temporale tra quello che avete visto 5 secondi fa e oggi Un'Aida data bene Cioè bene è un parolone però vabbè Non ne parlerò adesso Stasera proviamo il Nabucco E' italiano Io sono andato italiano e bevi E' austriaco fuori Oh raga quindi Siamo tutti vero Siamo tutti Siamo tutti Sono identificato le scarpe oggi Ah nooo Sono identificato le scarpe Una che avevo isata dai qua La scatola si muove Vabbè gli ufficiali austriaci hanno la parte in cima all'arena Ho rimediato un fucile Ho rimediato un fucile Tommy faccia vedere il trick Lo prendiamo Lo prendiamo dentro Rimaniamo così Rimaniamo sopra Rimaniamo così Un' Reese Cosa cazzo? Dio dà la forza per arrivare a finire stagione Raga cambia inquadratura e scivolata la gopro Si va però come quando ti si rompe il vetro sul telefono Che fastidio giuro giuro è caduta qua da questa altezza Sì è vero Stop Scherzavo raga Oddio c'ho il trucco, me l'ho dimenticato Sono imbarfantissimo C'è anche lui Dicevi del trucco Visto un attimino qualcosa Poco Ciao Ciao Oddio cristo Last dancing Ultimo Volevo rendervi partecipi dall'ultimo timbrato E' quasi commovente Andiamo a riferirci Andiamo a riferirci Ine 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 E così ragazzi si conclude la stagione a rendere con tutto questo delirio e le sue E così ragazzi si conclude la stagione a rendere con tutto questo delirio e le sue L'hanno preso Dai Mi sei perso il limone con Sergio Su Youtube è tutto su Youtube Grazie Scacceri 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 Scacceri